Nome? Andrea. Cognome? Bugatti. Età? Età 25. Città natale? V-mercate. Lavoro? Io faccio il bartender. Classico? Classico freestyle. Metà e metà. Perché? Perché continuo a insistere e a sparmi fare problema, ma non c'è verso. Nome del locale dove lavori? Just Contemporary. Cosa ti piace del tuo lavoro? Del mio lavoro mi piace che si conosce gente, si fa casino, si fa festa. Insomma ci divertiamo quando gli altri si divertono e più ci pagano. Hobby? Hobby, moto, macchine, palestra, sci, un sacco di cose. Il nome del tuo cocktail absolute? Lady Vire. Perché dovresti vincere tu? Dovrei vincere io perché sono talmente sbadato che magari me lo merito. Cosa vuoi dire a chi ti seguirà sul web? Mi seguirà sul web? Votatemi perché ci piacete. Fai un saluto. Ciao.